Comincia la pagina ricchissima perché ogni volta che il nostro Paolo Borrometi arriva all'ora solare ci porta storie meravigliose. Paolo, il mio muro portante, ben trovato, con Daniela Marcone. Ben arrivata. Questa signora è vicepresidente di Libera Nazionale e riferimento dell'associazione a Foggia. E oggi noi di Foggia parleremo tanto, oltre che parlare di Libera, che è sempre un onore ed è sempre una grande gioia. Gioia nonostante... se si può essere contenti di stare accanto a chi è in guerra, noi facciamo il tifo. Foggia è al centro di una recrudescenza criminale, non possiamo chiamarla così, e chiederemo di questo tra pochissimo a Daniela. Però è Paolo Borrometi che ci racconta la storia di un uomo straordinario, il papà di Daniela, Francesco Marcone, che era ed è rimasto un uomo straordinario. Un uomo straordinario, un uomo libero, un uomo, lo stiamo vedendo, la cui storia è d'esempio per tante persone, per ognuno di noi. Un uomo, io lo dico spesso, ma in questo caso va detto a maggior ragione, un uomo che ci ha consegnato una perla che ci permette di continuare con l'esempio di andare avanti ogni giorno in una terra, la Puglia, che come vedremo è una terra molto complessa, ma con degli esempi positivi, perché tu giustamente hai detto che bisogna stare accanto a chi è in guerra, ma Libera lotta per la pace, che è la lettura più bella che ognuno di noi deve dare all'impegno dei familiari di Libera, all'impegno di Daniela, a tante donne libere che non vogliono dimenticare e che fanno camminare sulle nostre gambe l'affetto di chi non c'è più ma continua a esserci. Allora, bravo, grazie Paolo, come sempre. Daniela, mi permetta di partire da quel 31 marzo del 1995, sa perché glielo chiedo? Perché purtroppo se c'è un danno che il nostro Paese si porta addosso è quello di una scarsa memoria, di una scarsa attitudine alla memoria. Questo non è vero per persone come voi, non parlo solo dei familiari, ma come chi poi fa di questa campagna a favore della legalità, argomento di tutti i giorni. Però se io penso al 31 marzo del 1995, ho bisogno che lei, glielo chiedo per favore, rinnovi la memoria. Beh, erano le 19.15, io tornavo a casa da un pomeriggio di studio, di biblioteca, e arrivata sotto casa trovo un'automobile della polizia e la persona che abitava, che aveva lo studio al primo piano mi chiede di non entrare nel portone, si affaccia, dice Daniela, non entrare, hanno sparato nel portone di casa nostra, insomma. E io sono scappata via, però dopo qualche metro sono ritornata perché mi sono detta questo è l'orario in cui si ritira papà. La polizia mi ha permesso di guardare dai vetri del portone, i vetri esterni, e ho visto questo corpo riverso sulle scale, nell'androne del portone, che in un primo momento non ho riconosciuto perché era di faccia a terra, però i calzoni gli si erano un po' alzati e ho visto delle calze bianche. Era una piccola discussione tra me e lui, ero ragazza, gli compravo le calze abbinate ai pantaloni da dirigente, lui vestiva sempre in giacca e cravatta, elegante, uomo dello Stato, e invece aveva preso queste calze bianche come era suo vizio di filo di Scozia e se le era messe, e io mi sono detta chi vuoi che abbia quelle calze e lui e sono entrata. Daniela, uomo dello Stato, intanto grazie per il racconto che ha fatto e mi perdoni la domanda, però tutto questo deve essere raccontato perché inquadriamo così nel modo giusto suo padre. Suo padre che cosa faceva, e qui la domanda c'è, perché è stato ucciso suo padre, perché hanno pensato di metterlo a tacere? È una domanda che io metto sempre in conto, sulla quale ho riflettuto anch'io tanto, perché lui era un uomo dello Stato ma dirigeva un ufficio del Ministero delle Finanze, quindi faceva applicare la legge, la legge non offre possibilità di scelta, e quella si deve far applicare, la legge è legge. E poi aveva diretto tanti anni un ufficio pericoloso, un ufficio in una zona pericolosa vicino Foggia, Cerignola, e non era mai successo nulla. Poi dirige questo importante ufficio a Foggia dal 92 e tutto cambia, diventa più preoccupato, più silenzioso, quasi amareggiato. E scopriamo, 10-11 giorni prima della sua morte, che aveva fatto una denuncia, aveva un esposto alla procura di Foggia, in cui denunciava dei faccendieri che fuori dall'ufficio chiedevano in cambio di denaro, proponevano ai contribuenti il disbrigo di pratiche. In questo linguaggio tecnico, che è inutile che io entri nello specifico, in realtà lui denuncia una truffa gravissima ai danni dello Stato, ma la cosa che fa in più, oltre a questo esposto, scrive una lettera a tutti gli ordini professionali, dicendo che aveva effettuato quell'esposto, e dicendo che con quell'ufficio non c'erano intermediari, ma che bisognava rivolgersi direttamente al direttore, e ai dipendenti di quell'ufficio. Che significa? Significa che lui dice a tutti, guardate, io denuncerò fino alla fine. E così illumina su di sé un faro, un faro enorme. E dopo il 31, quindi dal 20-21 che avanza questa denuncia, il 31 viene ucciso. Viene ucciso perché non era l'unica segnalazione che aveva fatto, quindi in movente è tutto nel suo lavoro, e tutto in questo lavoro accurato, in cui in realtà lui non si prefiggeva di combattere la mafia in una città in cui di mafia non si parlava, ma si prefiggeva di amare la sua terra, di tutelare il cittadino, di essere un uomo onesto. Ecco il proprio esempio di insegnare onestà. Questa è la particolarità. Foggia, Paolo, la leggiamo troppe volte. La città e quell'area, nella cronaca che non vorremmo leggere, che poi si rischia di fare una cartolina di un luogo e di pensare che quel luogo sia solo quel problema. Però abbiamo parlato di recrudescenza, è così. Daniela prima sottolineava come nel 1995 non si parlasse di mafia a Foggia. Bene, non si parla neanche adesso. O meglio, i fatti di sangue ai quali si è dovuti riarrivare, le continue intimidazioni nei confronti di imprenditori, di attività commerciali. Questa recrudescenza, che non è recrudescenza, è qualcosa di più. È una cultura che ci riporta a una Sicilia degli anni 70. Quando di mafia non si parlava solo che siamo nel 2020. È passato un po' di tempo. È passato un po' di tempo. E, scherzo del destino, è Daniela, con il suo cognome, che ritorna e cerca di scuotere le coscienze. Quella marcia straordinaria che Libera ha organizzato poche settimane fa, di cui, lo voglio dire, Daniela è stata una delle promotrici, ovviamente, ma marcia straordinariamente partecipata. È sentita da tanti. È sentita. Per qualcuno è un esercizio sterile. Per me, invece, e l'esempio del papà di Daniela ce lo dimostra, ci fa comprendere come i simboli in alcuni territori siano tutto. Ecco perché noi abbiamo il dovere di illuminare quei territori, di stare accanto al procuratore di Foggia, che tanto sta cercando di fare per quella collettività, affinché siano innanzitutto i cittadini a comprendere che, allora come oggi, bisogna denunciare. Bravo Paola. Daniela, il 1995 è lontanissimo. È un tot di anni fa. Sembra niente, perché la verità è che poi sono già passati i vent'anni di questo 2000. Ma se lei era già una ragazza così tenera e così attenta da cercare anche di comprare i calzini dello stesso colore, evidentemente di amare un papà che, quando poi chiudeva la porta di casa, era il vostro papà, era la vostra famiglia, era probabilmente un uomo che non portava a casa i problemi, però era, da tutte le descrizioni che ne vengono fatte, un uomo buono. Se lei si rivede venticinque anni fa, venticinque anni dopo hanno trovato una donna di ferro. Esatto. Perché lei è di ferro. Ferro. Se andare a sbattere contro il ferro fa tanto male. Ma il ricordo del suo papà di quei venticinque anni fa, come è fatto? Eccolo qua. Qua eravamo più piccolini, io e Paolo, mio fratello. Era di un uomo comunque molto determinato, affettuoso, che ci ha indicato una strada e che è stato anche molto presente nella mia vita in particolare, perché io sono sempre stata una persona inquieta, anche da ragazzina. E lui diceva sempre, mi assomigli, ma io ho dovuto contenere questa inquietudine, tu devi trovare la tua strada per farlo, perché i tempi sono diversi. E questa è una cosa che non dimenticherò mai, perché quel suo comprendermi, sebbene un uomo che ha vissuto l'infanzia nella Seconda Guerra Mondiale, aveva otto anni quando è morto suo papà, e che, diciamo, l'ultimo giorno in cui è andato via, io lo ricordo, le ultime parole, ricordo lo sventolio del suo cappotto, perché era un marzo freddissimo, eravamo tornati a mettere gli abiti pesanti, e lui mi dice semplicemente, Daniela ricordati di chiudere bene la caldaia, quindi questa quotidianità in cui ci siamo salutati per poi non rivederlo più. E poi la tenerezza, la tenerezza che ho ritrovato, perché non era un padre semplicissimo, era molto severo con noi, ci chiedeva di essere dei cittadini fin da ragazzini, il fatto di dirci quando eravamo adolescenti, lo Stato siamo noi, per noi da ragazzini era abbastanza, no, eravamo appunto adolescenti, ma che cosa vorrà papà, ne parlavamo io e Paolo, ma cosa ci vuole dire? Però poi dopo l'abbiamo ritrovato tutto in quelle carte dell'ufficio, quando dopo leggevamo quello che lui aveva scritto nelle sue segnalazioni, e anche noi avevamo vinto poi un concorso nel Ministero delle Finanze, iniziavamo a comprendere quel linguaggio, abbiamo capito l'amore per il suo lavoro, la dedizione che guardi non è quella di un grigio funzionario, come alcune volte vengono descritte queste persone, ma di una persona piena di vitalità, di amore, che applica la legge non perché la legge si applica a punto e basta, no, perché ci fa bene, perché conviene. Intanto la applica in prima persona. E poi la applica in prima persona. Con i comportamenti, e da quello impariamo noi, no? Dai comportamenti. Senta, la sua foggia, la sua zona, intanto vogliamo ricordare che per questo venticinquesimo anno della morte del suo papà uscirà una graphic novel, che è un modo anche quello, perché a questo volevo arrivare, voi avete il compito di coinvolgere i più grandi, tutti, guardatela che bella questa immagine, che bella, che bella. E poi dovete chiamare a voi i più giovani. Allora, una novella grafica, o graphic novel, che vi si voglia, serve anche a questo, Daniela? Sì, serve molto perché abbiamo bisogno di avere accanto i più giovani, anche in queste storie degli anni 90, in quanto il rischio è proprio quello di far vivere ai ragazzi un oggi che sembra completamente diverso, ma che sembra sradicato dalla storia del nostro paese degli anni 90. E questo vale soprattutto per la Puglia e per Foggia in particolare. Perché quando mi chiedono, ma come mai c'è questa recrudescenza a Foggia? Ecco, voi cosa fate? Come rispondete a tutto questo? Noi rispondiamo dicendo, beh, guarda, ci sono delle storie degli anni 90 che raccontano di mafie già presenti, che erano già forti, e avevano deciso di alzare il tiro, tanto che hanno ucciso un uomo dello Stato. Quindi, oltre a tutto ciò che le organizza, marce, insomma, lei, se è il caso di andare a tirar giù la gente dal letto, dice, noi facciamo questa cosa, dovete esserci, ma nel senso, li motiva? Lei è una persona altamente... Ci provo, ci provo perché... Eh, ma ci riesce pure, sa, è la fama che la rincorre, sa. Noi abbiamo chi ci racconta queste cose. Anche perché o lo si fa o lo si fa, cioè... Assolutamente, il senso è questo, quindi la motivazione forte c'è e voi fate. Sì, c'è perché, guardi, io soffro tantissimo quando leggo che la mia città ha gli ultimi posti nelle classifiche nazionali, e mi dico che quelle non sono solo classifiche sulla carta, ma sono il modo in cui noi viviamo quella città, cioè male, siamo infelici. E noi abbiamo bisogno di vivere felici in quella città, perché quella era la città dove ha vissuto mio padre e io ci voglio rimanere, e ho bisogno che quella città appaia adesso, non come la città degli indifferenti, degli omertosi, dei silenziosi, no. Una città che ha voglia di farsi vedere e di ricordare. Una città che è medaglia d'oro. Che è medaglia d'oro, certo. Perché ha sofferto l'ultima guerra come altri non hanno potuto soffrire. Lì si è sofferto. Allora si deve tornare medaglia d'oro. Esatto, esatto. Grazie. Che sì. Paolo, in un minuto, ma una tua conclusione, perché insomma ci si deve guardare, non ci sono dubbi, da chi ha le mani cariche di armi, ci si deve guardare anche dai colletti bianchi, che a volte sono altrettanto pericolosi. Beh, assolutamente sì. Oggi i colletti bianchi sono purtroppo, e ce lo insegna sempre Don Luigi Ciotti, quando dice che la corruzione, ad esempio, è l'altra faccia della stessa medaglia delle mafie. I colletti bianchi sono quei professionisti, quegli uomini dello Stato, che si piegano invece a degli altri voleri. E quindi quando si trova un funzionario che non è grigio, ma rappresenta tutto quello che non deve essere un colletto bianco, ecco che diventa un simbolo, e quindi io penso che anche questa storia ci dimostri nella nostra percorso dell'Ora Solare quanto è importante sia fare memoria, ma fare resistenza, fare memoria per una resistenza odierna. Daniela Marcone e Paolo Borrometi, ragazzi d'oro, tutti e due, grazie per essere stati con noi all'Ora Solare. Ci fermiamo solo per un attimo, grazie della vostra attenzione, grazie come sempre a Daniela e a di Dio, ci vediamo tra un attimo. Grazie a tutti.